Sintesi tra le varie anime della coalizione ma anche degli stessi partiti. E' questa, tanto nel centro-destra quanto nel centro-sinistra, la parola chiave che viene ripetuta dai diversi esponenti interpellati sulle amministrative per il Comune dell'Aquila del 2017. Nel centro-sinistra la situazione è ancora tutta in fieri, nel centro-destra invece c'è già un candidato, Luigi D'Eramo con noi con Salvini e un altro che potrebbe a breve annunciare la sua discesa in campo. L'ex sindaco di Villa Sant'Angelo per Luigi Biondi che verrebbe appoggiato da una serie di liste civiche, oltre che, molto probabilmente, anche da Fradelli d'Italia e Casa Pound. E forse Italia, difficile che rimanga a guardare. Nei giorni scorsi è stato ufficializzato il Comitato Comunale ed è iniziato un percorso che porterà alla primavera del prossimo anno. Se con un candidato proprio o di coalizione lo abbiamo chiesto all'onorevole Fabrizio Di Stefano, uno dei leader del Partito Azzurro in Abruzzo. Io guardo ovviamente con estrema positività questa vivacità, finalmente vivacità, del nostro ambiente qui sull'Aquila. L'abbiamo sollecitato, l'abbiamo sperato e finalmente c'è qualcosa che si muove. La candidatura finale sarà un qualcosa che verrà accaduta. Oggi l'importante è creare un progetto politico condiviso da parte di tutte le anime del centrodestra e non solo del centrodestra, di collocare con quei grandi stati di popolazione che magari non sono inquadabili nei partiti politici, ma che seguono con attenzione le dinamiche specie amministrative della città per offrire un'alternativa all'Aquila, per un'alternativa necessaria visto che a mio avviso questa amministrazione, lo dimostra la quotidianità, non ha dato le risposte che invece i cittadini si aspettavano e che il territorio e la città meritavano. Per quanto riguarda la candidatura, io mi sono sempre speso perché anche il centrodestra ricorresse quando, qualora non dovesse trovare condivisione su un'unifica candidatura, allo strumento delle primarie. Ma prima ancora di arrivare a questo, io credo che vada la pena di scandagliare il più possibile il tessuto sociale aquilano per verificare se al di là di chi ormai è perfettamente inserito nel discorso politico cittadino, se ci sono anche altre figure professionali di qualità e di competenza che vogliano provare a dare il proprio apporto per il rilancio della città. Si sarebbero impossessati di valori per circa 2 milioni di euro di proprietà di anziani ospiti della loro casa di riposo a Fontecchio, in provincia dell'Aquila, tutti con gravi problemi cognitivi e psichici. Per questo motivo i finanzieri del Comando Provinciale e della Guardia di Finanza dell'Aquila hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico di Piero Melogno, 65 anni, e della moglie Gilda Bernabèi, 64, gestori della struttura. I provvedimenti sono stati emessi dalla giudice per l'indagine preliminare del Tribunale del Capoluogo, Guendina Buccella, su richiesta del sostituto procuratore Roberto Davoglio. Gli anziani derubati soffrivano di gravi infermità psichiche come la schizofrenia o il morbo di Parkinson e non erano in grado di intendere e di volere. Secondo gli accertamenti, dopo aver controllato l'infermità psichica dagli anziani ospiti, la consistenza dei loro patrimoni e l'assenza di parenti in grado di vigilare e tutelarli, approfittando della loro condizione di inferiorità psicologica, gli accusati li manipolavano per appropriarsi illecitamenti delle somme. Le indagini hanno permesso di scoprire che tutto il denaro di proprietà delle povere vittime veniva fatto confluire su distinti conti correnti, cointestati all'uomo che lo utilizzava investendolo in azioni e polizze assicurative o destinandolo a pagamenti nell'interesse proprio della coniuge o della comune attività imprenditoriale. In sostanza, gli anziani spogliati hanno finito per finanziare, a loro insabuta, la gestione della casa di riposo, corrispondere compensi a professionisti e pagare oneri previdenziali, ma anche per realizzare un impianto fotovoltaico, rinnovarne gli infissi e per dotarla di una nuova cucina industriale. A oggi le vittime sono tutte decedute e gli inquirenti, per verificare l'esistenza di eredi legittimi, hanno scavato nel loro passato. Solo in un caso, grazie alla consultazione di registri anagrafici risalenti alla fine dell'Ottocento, sono stati rinvenuti alcuni lontani parenti, oggi residenti in Sud America. Anche per il loro ristoro, l'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro delle somme illecitamente ottenute. Circa 2000 metri quadrati di selva impenetrabile, abbandonata da tempo in memore, sono diventati un nuovo polmone verde dell'Aquila. Il Parco delle Acque, che sovraste il Borgo Rivera, il quartiere che ospita la celebre fontana monumentale delle 99 cannelle. Oggi il taglio del nastro, con l'assessore comunale Maurizio Capri. Al posto dei rovi e dell'erbaccio ci sono ora prati verdi, vialetti, panchine staccionate, aiuole fiorite. In sottofondo il suono rilassante e avvolgente dell'acqua che scorre. Costo dell'intervento 600.000 euro, di cui 500.000 per gli espropri dei terreni privati. Ed è solo l'inizio, un secondo step dei lavori trasformerà in parco urbano altri 3.000 metri quadrati dell'area adiacente, abbandonata anch'essa da decenni, dove c'è anche un'antica conceria dal grande valore storico. In prospettiva il Comune intende poi dare in gestione, tramite bando ad un'associazione, la gestione del parco. Finalmente il taglio del nastro? Sì, diciamo che il taglio del nastro è il taglio del nastro di una parte del parco. Noi abbiamo questo parco, che è un parco che si estende per circa 6.000 metri quadrati e noi l'abbiamo acquistato come Comune dell'Aquila interamente. Questa parte che inaugureremo oggi è una parte che per circa la metà, anche un po' meno della metà, mentre c'è tutta un'altra parte che è la parte superiore che si può vedere da qui, dove c'è una vecchia conceria, ci sono anche altre infrastrutture e diciamo che è anche un sito di interesse probabilmente archeologico, quindi dove noi stiamo già facendo delle ricerche, stiamo facendo già dei lavori per poter prevedere un secondo lotto dei lavori. Per creare soprattutto in questa congeria c'è una struttura ricettizia, quindi vedremo un po' di che cosa si tratta, che cosa riusciremo a fare e soprattutto per valorizzare al massimo quest'area, quest'area che come sappiamo tutti è l'area della Rivera, l'area delle acque, il parco si chiama il parco delle acque perché è la stessa acqua che alimenta le 99 cannelle, è un'acqua sorgiva che esce da tutte le parti, possiamo vedere anche sulle mura esce acqua, quindi è un parco che va a valorizzare proprio l'acqua, va a valorizzare anche la natura. Allora questo intervento è costato circa 600 mila euro, ma la maggior parte dei soldi, circa 500 e qualcosa, è stato speso per 10 propri, perché questa era tutta un'area di interesse tutta privata, quindi non era pubblica e abbiamo dovuto acquisire tutta l'area al comune, quindi abbiamo speso 500 mila euro per gli espropri, il resto per quanto riguarda il resto è stato un impegno di poca spesa.